Giovinazzo in fibrillazione per la seduta del Consiglio Comunale, prevista domani sera, nella quale si discuteranno temi delicati come il bilancio di previsione 2014 e il bilancio programmatico 2014-2016. Tra i 14 punti all'ordine del giorno si dovrà decidere anche sul piano delle opere pubbliche 2014-2016 e sulla politica tributaria comunale. Dovrebbero infatti essere approvati i regolamenti aliquoti di Tasi, Tari e delle addizionali comunali IRPEF e IMU. Temi caldi dunque, nell'agenda del Consiglio Comunale, con un clima reso ancora più acceso dal rimpasto di giunta che dovrebbe essere ufficializzato prima della seduta. Nel mirino del turnover gli assessorati alla cultura, al turismo e alle politiche giovanili di Enzo Posca e quello ai lavori pubblici e ambiente urbanistica del dimissionario Nicola Catalano, ora fidato pro tempore a Salvatore Stallone. Al momento non si conoscono i nomi dei successori, ma la decisione sarà fondamentale per conservare i già precari equilibri della maggioranza che sostiene il sindaco Tommaso De Palma, dopo la defezione dal gruppo di Città del Sole e del consigliere Giancarlo Leali, che ha seguito la strada percorsa nei mesi passati dai colleghi Arbore e Bonvino.